Al grande fratello Enzo Paolo Turchi ha commesso una gaff nelle ultime ore, che farà parlare veramente a lungo. Si trovava in giardino con altri concorrenti, quando all'improvviso ha udito la voce di un autore, che ha chiamato qualcuna in confessionale. Ma all'improvviso il marito di Carmen Russo se n'è uscito con una domanda che ha lasciato di stucco. Nella casa del grande fratello Enzo Paolo Turchi è uno di coloro che si sta mettendo più in mostra. Il pubblico lo sta promuovendo a pieni voti e quest'ultima gaffa ha fatto sorridere tante persone. Anche se ovviamente potrebbero nascere pure delle critiche da parte dei fan della compagna di avventura, i quali potrebbero offendersi per questa sua uscita. Diversi filmati dello stesso episodio sono stati diffusi in rete dai telespettatori del grande fratello. Enzo Paolo Turchi ha fatto una gaffa, che passerà alla storia di questa edizione nonostante siamo ancora nei primissimi giorni. Anche Alfonso Signorini potrebbe intervenire sulla questione per riderci su, anche perché da parte del concorrente non c'era malizia. La voce fuori dal campo dell'autore ha detto, Giulia in confessionale. E Enzo Paolo ha risposto, chi è Giulia, dimenticandosi che fosse una concorrente rinchiusa anche lei nella casa più spiata d'Italia. Questo ci fa comprendere che i due finora non abbiano avuto molti incontri nel programma, ma ci sarà tempo per conoscersi meglio. E possiamo rispondere noi alla domanda di Enzo Paolo Turchi. Giulia, che di cognome Fabruschi, è nata nel 1998 a Cuba da suo padre che è italiano e madre cubana. Lei è cresciuta in Toscana, a Lucca, ed è una modella che ha partecipato come tentatrice a Temptation Island 2020. La geffina lavora precisamente come direttrice creativa in uno storico locale lucchese, infatti è organizzatrice di eventi e matrimoni.